Musica Bentornati da Paolo Corazzona a questo aggiornamento delle previsioni per la giornata di sabato giornata che vedrà ancora molta instabilità nelle regioni centro-meridionali con alta probabilità di piogge rovesci mentre il tempo inizierà a migliorare al nord soprattutto sul settore nord-occidentale e sull'alto tirreno tra poco entreremo nel dettaglio un'occhiata come sempre alle temperature iniziando dalle minime che risulteranno nella norma quindi senza variazioni particolari e ripeto in linea con le medie del periodo massimi invece attenzione piuttosto contenute al centro-sud dove come vedete non riusciamo ad andare oltre i 20 gradi invece al nord grazie al miglioramento del tempo potremo toccare i 22-23 gradi ora entriamo nel dettaglio dicevamo nelle regioni settentrionali ci attendiamo un miglioramento della situazione meteo soprattutto sul settore nord-occidentale al nord-est in realtà la giornata inizierà abbastanza bene però l'atmosfera resta piuttosto instabile quindi nel pomeriggio qualche acquazzone, qualche temporale potrà formarsi sulle Venezie e in Romagna un'occhiata orale alle regioni centrali dove a parte la Toscana dove nel corso della giornata torneranno ampie schiarite per il resto resterà alta la probabilità di rovesci e anche di qualche temporale miglioramento solo a fine giornata a iniziare dal versante tirrenico infine un'occhiata al sud dove la giornata sarà particolarmente instabile per non dire perturbata, alta probabilità di piogge e qua avremo anche numerosi temporali quindi precipitazioni localmente anche piuttosto intense con questo è tutto aggiornamento in temporale sempre su 3bmeteo.com